Noi siamo l'associazione sportiva di Tantitica, non solo Vela a Venezia. Siamo nati nel 2005 da un gruppo di amici e poi l'attività si è un po' espansa e ci occupiamo sostanzialmente di Vela d'Altura. Abbiamo una barca di proprietà e utilizziamo una seconda barca di un'associazione parallela alla nostra con cui abbiamo un accordo stabile. Come numero di soci varia ovviamente da anno in anno perché non è sempre costante però mediamente siamo intorno ai 150 soci, 160 o 140 ogni anno. L'attività nostra primaria è quella di rendere il più sicura possibile l'attività di Vela d'Altura quindi formare le persone per aumentare il loro grado di responsabilità all'interno della imbarcazione e poi godere dell'imbarcazione stessa al minimo costo possibile. Queste sono le nostre filosofie. Abbiamo un gruppo Facebook che si può trovare digitando non solo Vela Venezia e abbiamo anche una e-mail che è non solo Vela ASD www.chiocciolagmail.com www.chiocciolagmail.com www.chiocciolag 2022-醫